Abbiamo un amico perché c'è Bob Caprai, un videomaker, io non è che con l'inglese lo mastico bene però insomma, e ci riprende e quindi ci fa una cosa bellissima che poi ve la faremo vedere se fatti bravi, eh? E allora è qui con noi che gira nei nostri studi e ci farà un... si dice videoclip, Bob? A Le Provercelli in onda. Buonasera, buonasera a tutti voi, bentrovati qui a Le Provercelli in onda, buon giovedì sera, una nuova puntata in questa trasmissione dedicata alla Provercelli e alle Bianche Casacche, un saluto da Raffaella Lanza, da Marco Miglietta, buonasera. Grazie a tutti Un abbraccio, un abbraccio, un abbraccio grande e buona serata, noi andiamo in pubblicità